ciao a tutti oggi parliamo del colpo di calore perché si verifica quali sono i sintomi come intervenire quando al nostro cane viene un colpo di calore ma soprattutto quali sono le armi per la prevenzione del colpo di calore allora intanto si verifica perché purtroppo il cane non riesce a termoregolare come noi la sua temperatura corporea normalmente è fra i 38 e 39 gradi purtroppo non riuscendo a sudare se non in minima parte attraverso i cuscinetti palmari e plantari quindi sotto le zampe non riesce a eliminare il calore quindi la temperatura corporea facilmente aumenta oltre i 40 gradi ed ecco qua che si verifica il colpo di calore quali possono essere i sintomi intanto il cane comincia a respirare molto più frequentemente questo si chiama polipnea a bocca aperta aumenta la salivazione tende a barcollare fino anche ad avere delle crisi convulsive degli svenimenti aumenta la frequenza cardiaca ovviamente è una scena che impressiona moltissimo il proprietario quello che bisogna fare però è cercare di mantenere la calma prendere il cane metterlo in una zona possibilmente in ombra prendere dei giornali o un ventaglio e iniziare a sventolarlo e se possibile un panno inumidito non ghiacciato e questo panno andrà posizionato dove andrà posizionato o dietro al collo in questo modo dove c'è il cervelletto oppure sotto al collo dove ci sono i vasi principali sotto le ascelle o ancora meglio nell'interno della coscia dove c'è l'arteria femorale per poter in questo modo abbassare rapidamente ma non troppo la temperatura corporea bisogna unirsi anche di un termometro di quelli elettronici rapidi metterlo per via rettale e assicurarsi che la temperatura del cane cominci a scendere almeno ai 39 gradi e mezzo fatto questo la cosa più importante comunque recarsi dal medico veterinario per eseguire una serie di accertamenti di esami emato biochimici in quanto il colpo di calore potrebbe determinare delle alterazioni sui nostri organi cioè a livello epatico a livello renale per cui è necessario fare degli accertamenti che cosa bisogna fare per prevenire il colpo di calore intanto chiaramente in estate non uscire negli orari più caldi quindi il cane viene portato fuori la mattina nelle prime ore del mattino oppure la sera dopo il tramonto non deve affaticarsi troppo correre o giocare nelle ore pomeridiane un po come per i bambini bisogna avere lo stesso tipo di accortezza non bisogna lasciare il cane in macchina neanche per pochi minuti proprio per questa sua incapacità diciamo di termolecolare e soprattutto mantenere a disposizione dell'acqua fredda non ghiacciata non gelata le razze che sono maggiormente predisposte a questo tipo di di problematica sono sicuramente i cani brachicefali cioè quei cani che hanno una un muso una conformazione muso molto schiacciata e non riescono a respirare adeguatamente anche i soggetti un pochino anziani come il piso oppure i soggetti giovani che non riescono a termoregolare come un cane adulto un giovane adulto spero che il video sia stato chiaro per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere sotto un commento